Ah, piccolo taglio, stiamo provando a rifare video col telefono in un'altra risoluzione per vedere un po' se cambiano quindi se vedete sfarfallini di luce e cose è normale, dal prossimo correggeremo Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio presentare un veloce e simpaticissimo gioco, davvero alla portata di tutti, a tema fantasy gioco offertomi da Draco Ideas che ringrazio ovviamente di cuore per l'onore e per la copia fornita si parla di Waylanders, un gioco da 2 a 4 giocatori, ovviamente un gioco competitivo, quindi qui vince chi fa più punti ed è un gioco veramente molto interessante perché a parte ricco di miniature, che per quanto piccoline sono anche carine e dettagliate bene è un gioco fantasy molto semplice che sono sicuro andrà tranquillamente in qualsiasi tavolo e farà divertire praticamente chiunque ve ne parlo a breve dopo la sigla Waylanders, gioco appunto editore Draco Ideas, ha avuto anche una controparte videoludica infatti chi ha finanziato sia questo progetto Kickstarter che anche il Kickstarter della versione del videogioco ha ricevuto due miniature aggiuntive, tra l'altro in tiratura limitata, molto molto carine e come vi dicevo Waylanders è un gioco fantasy, competitivo, ma nel vero senso della parola anche perché ciascun giocatore avrà un gruppo di 5 eroi, scelti ovviamente casualmente da una mano questi 5 eroi vengono scelti uno alla volta, in un modo abbastanza carino perché all'inizio della partita, quando si vanno a fare il gruppo di 5 eroi il primo giocatore ha diversi eroi nel suo mazzo, li guarda tutti quanti, poi ne sceglie uno e lo mette giù coperto e il mazzo che avanza lo passa al giocatore alla sua sinistra il giocatore alla sua sinistra fa lo stesso con il suo e lo passa al giocatore alla sinistra fino a girare tutti quanti, così che i gruppi vengano un po' più variegati possibili o ci sia la possibilità nel gruppo, visto che questo è un gioco un po' alla, anche vogliamo la Dungeons & Dragons che ci siano classi come il guerriero, che va avanti, tanca e regge parecchio colpi e fa anche considerevoli danni il ranger, il ladro, il mago e addirittura il chierico che cura le ferite si va a vedere il libro delle missioni, la mappa a secondo del numero di giocatori se è una partita da 2 ci sono tipi di mappe, evitando di fare mappe immense perché non ce ne sarebbe bisogno ma in una partita normale a 4 giocatori si va a comporre una mappa e quando si va a comporre la mappa su ciascuna zona dove è possibile accedere o meglio dove non ci sono rocce che ne bloccano l'accesso si vanno a mettere dei token rigirati che sono le Stronghold, sono le fortezze queste fortezze sono quelle che vi fanno vincere la partita perché la partita si vince andando nella zona, girando la Stronghold dopo aver fatto un'azione di perlustrazione e con la seconda azione si prova l'assalto, la conquista, la fortezza che bisognerà superare il valore scritto sul token della fortezza quindi se c'è scritto 2 bisognerà tirare dei dadi di attacco e fare almeno 2 colpiti sempre la mappa ci fa vedere zone adiacenti dove possiamo muoverci e ciascun gruppo all'inizio ha tot azioni queste tot azioni che sono di solito 5 azioni si possono spendere per fare 2 volte ma non di più la stessa azione e far muovere diversi personaggi quindi se voi fate fare 2 azioni all'eroe e al guerriero e 2 azioni al ranger magari ne rimane una unica per ogni azione ovviamente a un costo per il chierico ma potreste far compiere anche tutte quante le azioni al guerriero quindi fate tutte e 5 le azioni e poi il resto del gruppo non si muove ricordandovi sempre che il numero di azioni che voi avete compiuto le passate al giocatore alla vostra sinistra quindi se non volete che il giocatore alla vostra sinistra compia tantissime azioni non dovete farne nemmeno voi tante quindi questa è una cosa beldina per controbilanciare le mosse del nostro avversario che è anche secondo me una tattica veramente carina ciascun personaggio ha non soltanto un'abilità speciale ma anche delle caratteristiche ci fa vedere a quanta distanza può attaccare di solito 0 corpo a corpo stessa zona 1 quindi un tile adiacente di distanza o 2 il massimo di distanza è 2 le armi da tira arrivano a 2 quindi se il vostro personaggio ad esempio ha sul primo sul preso a distanza 0 un dado ad esempio pure 2 dadi a distanza 1 un tile un dado e a distanza 3 sulla carta non c'è nessun dado vuol dire che lui a distanza 2 la massima digitata non può attaccare quando si va a fare un attacco si prendono dadi dello stesso colore del tile dove ci troviamo quindi se è un tile verde e dadi verdi se è un tile di un altro colore ovviamente col colore del tile dove siete posizionati sopra e si va a fare un tiro a seconda di quanti dadi come detto poco anzi tira il vostro personaggio a distanza in corpo a corpo ne tira due tirate quei due dadi in più se nel vostro tile ci sono altri personaggi del vostro gruppo che vi possono dare una mano nel combattimento si tirano altri dadi per ciascun eroe che vi dà una mano va massimo 2 quindi anche se avete 3 eroi che vi danno una mano in quel tile ne potete tirare massimo 2 in più magari quello tira 4 dadi di colore verde di colore arancione o di un altro colore e per colpire deve uscire il simbolo che è in alta a sinistra sulla carta quindi deve uscire il simbolo di quel personaggio per avere una possibilità di colpire il nemico si difende con i suoi dadi di difesa che sono anche per lui i suoi dadi d'attacco del colore di quella zona chi fa più risultati vince non ci sono punti ferita appena si fa una ferita al nemico una soltanto quel nemico è caduto in terra quando li si fa o meglio ha perso il duello quando li si fanno quando è già caduto in terra li si fa in un altro combattimento un'altra ferita è fuori dal combattimento e l'unico modo per rialzarlo è col chierico lanciargli una cura oppure con un qualsiasi altro personaggio del party andare lì usare un'azione per farlo rialzare e con la seconda azione addirittura lo curiamo quindi come gioco è veramente molto semplice conquistate le fortezze si va a fare il conto e per ogni fortezza si fa un punto quindi è molto semplice come gioco dopo 8 turni finisce la partita e si fa la conta di punti è un gioco facilissimo 12 anni in su mi ci trovo d'accordo alla portata di tutti veramente carino anche come componenti e non è un gioco dove si vanno a combattere mostri e cose del genere ma qui si combatte fra gruppi di avventurieri per la conquista delle fortezze quindi fondamentalmente è molto semplice io ringrazio di cuore la Draco Ideas per la copia ricevuta se lo volete ordinare come sempre primo link in descrizione in sovraimpressione dalla gioco libreria semola al nostro negozio sponsor al meglio il prezzo sul mercato se lo trovate ma è finito o non c'è in lista mandate una mail al supporto e fatele presente che arrivate dal mio canale dal canale di Coridan lui farà il possibile per trovarvi questo gioco anche se è finito e fuori catalogo e usate sempre il mio codice personale discount Coridan7 per avere uno sconto del 7% e per spese superiore ai 79€ corriere gratuito in 48 ore in tutta Europa quindi anche fuori dall'Italia gioco libreria semola come sempre è un servizio perfetto ed eccellente io penso che sia veramente un gioco molto interessante e spero che vi farà divertire ciao ragazzi alla prossima se questo video ti è piaciuto lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita primo link in descrizione e primi link che trovate ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale facebook al canale mio di live twitch alla mia pagina instagram e alla mia pagina tiktok che sono sempre aggiornate e su twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata mi raccomando iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa anche per il canale youtube lo troverete sempre lì ciao alla prossima ciao